Salve a tutti sono Zoom99 e questo è il quarto episodio su Angel o Stick 3 Allora ho sbagliato a dire video nel secondo e terzo ma in realtà sono episodi E oggi andremo a sconfiggere i nemici del quindicesimo round Ovviamente io sono andato avanti con i livelli e mi sto facendo i livelli più importanti e più complicati Ok fuori 1 Beh allora in realtà eravamo 69 nemici ma adesso ne avevo fatti fuori 4 E piano piano l'indicatore si abbasserà Perché noi piano piano li sconfiggiamo Sempre se questi qua non ci sconfiggono Non ci sconfiggono Schiatta Vabbè la pubblicità io non riesco a toglierla quindi purtroppo vi dovete tenere la pubblicità Purtroppo E' la cosa lì con la letterina che continua a lampeggiare ma Non so proprio come si tocca dal gioco Pare che non si può fare No eh Sì si è ucciso lui Si è ucciso lui e io rimango in vita Ma è mo No Eh spendo 300 euro 6 euro sì soldi insomma Però Se no fossero Se no sarebbero stati 200 Vabbè Adesso questo qua salterà di qua No deficiente Mi ha attaccato E sacchiotto Vabbè continuiamo senza di lui Tanto poi arriverà Ah si Guarda che è arrivato Il bell'imbusto si vuole fare Oh Termini eh Ok fatti fuori Oh scappiamo Ah quello è anche il fucile Bastardo Vieni qua Eh si si In tre eh Troppo semplice Anzi in realtà in due Vabbè eccolo il terzo Non era sbagliato Ah questo è uno dei più complicati Perché ha più vita E ha molta più resistenza Degli altri Però l'abbiamo battuto Ma è meglio così va Devo ricordarmi di tenere Bene il Il telefonino Se no poi Poi non vedete Cosa faccio Ok muore Muore pure questo Andiamo avanti Alcuni Alcuni sono semplicissimi Perché hanno talmente poca vita Che li distruggiamo facilmente Siamo avanti Siamo pure arrivati in città Solo questo qua Ragazzi Ragazzi togli un sacco quello Essendo anche veloce E smettila di picchiarmi Chi sarà Forse il boss finale E perché è più forte Ha più vita Ha più vita infatti Io però non c'ho voglia Di distruggerlo Userò il fucile Lo so che Non è corretto Però Così muore prima E finisco Prima il livello Grandioso Vabbè Abbiamo 13.255 punti E abbiamo Finito il livello E Allora Ragazzi Per questo video è tutto Ciao a tutti Al prossimo episodio Da Zoom99 Tutto Ciao a tutti